E quindi eccoci qua. Come promesso iniziamo con il nostro primo video. Allora, 1973. Torniamo indietro nel tempo. Io ero un bambinetto, tre anni e mezzo circa, e un pomeriggio accompagnai mia mamma, Piera Vidale, doppiatrice, direttrice di doppiaggio, altrice di teatro, e all'epoca lavorava con una società di doppiaggio che si chiamava la SAS ed era tra le tre e quattro società più importanti dell'epoca. All'epoca tutti i doppiatori lavoravano in esclusiva per una società, quindi c'erano i soci della SAS, i soci della CDC, varie società, la CID mi sembra, insomma adesso non mi ricordo bene tutte le cose perché poi ero piccolino. Però ognuno lavorava con la propria società, era difficile che ci fossero dei doppiatori liberi all'epoca, ce n'erano pochissimi, anche perché la maggior parte dei doppiatori erano attori, venivano dal teatro, quindi la maggior parte del loro tempo erano fuori con le compagnie teatrali, poi quando tornavano a Roma si occupavano anche del doppiaggio. Io mi ricordo che un pomeriggio mia mamma mi accompagnò, cioè io accompagnai mia mamma perché non sapeva dove lasciarmi, alla vecchia Fonoroma, perché dico vecchia? Perché adesso c'è una nuova Fonoroma da tantissimi anni, dalla fine degli anni Ottanta c'è la nuova Fonoroma, ma fino a quell'epoca la Fonoroma, la storica Fonoroma, era un palazzo che stava nella zona Flaminio di Roma, vicino Piazza del Popolo, ed era un palazzo storico dove c'era il gota del doppiaggio, si facevano praticamente, si faceva quasi tutto lì, c'erano i più grandi professionisti, i più grandi tecnici, delle sale enormi, grandissime, quasi a livello cinematografico, e quindi entrare lì dentro diciamo che suscitava un pochettino di paura, di timore. Al secondo piano della Fonoroma c'era un grande ristorante, mensa, ristorante, bar, dove appunto gli attori nelle pause di lavoro andavano a prendere un caffè o all'ora di pranzo a mangiare qualche cosa. Mi ricordo che mia mamma mi lasciò, perché doveva entrare in sala a lavorare e io non potevo entrare con lei, dalla proprietaria di questo ristorante, di questo bar, con lei che gestiva questo bar alla Fonoroma, e chiese la cortesia, perché poi sai, magari entri per un'ora, poi riesci, poi rientrava, quindi mi aveva lasciato in custodia, tra virgolette, perché era una sua amica, a questa signora del bar, la proprietaria del bar. E io ero lì, che giochicchiavo probabilmente, parlavo, disegnavo, non lo so che cosa stessi facendo, e arriva in questo bar il mitico Pino Colizzi. Pino Colizzi è un grandissimo attore, un grandissimo attore della televisione, del teatro, un grandissimo doppiatore, un grandissimo direttore di doppiaggio. e lui era lì a lavorare. Quando mi vide, mi conosceva già, già ci conoscevamo perché mia mamma e lui erano amici, praticamente mi chiese che cosa stessi facendo lì, e appunto anche la signora del bar ha detto, eh, Piera sta lavorando e quindi ha lasciato qui Fabrizio. Allora vedo che lui mi prende in braccio e dice alla signora, se esce Piera, dille che Fabrizio sta con me e mi porta con sé in una sala di doppiaggio. Io fino a quel momento non ero mai entrato in una sala di doppiaggio. Entro in questa sala di doppiaggio dove stavano doppiando il mitico Robin Hood e i compagni della foresta di Walt Disney. E Pino Colizzi era proprio la voce del protagonista di Robin Hood. Buon compleanno figliolo. E di un po' giovanotto. Quanti anni fai oggi? In questo film, a un certo punto, ad un tratto, si vede una familiola, una familiola con due piccoli bambinetti, coniglietti, dove Robin entra facendo finta di essere non vedente, un cieco, perché poco prima era stato il cattivone delle tasse che aveva rubato, anche l'ultimo soldo che questa famiglia aveva messo da parte, e quindi entra a trovare questa famiglia per aiutarla. E loro che cosa stavano cercando? Perché Pino mi portò in questa sala? Perché loro cercavano la voce del coniglietto più piccolo. E dato che Panicali, anche lui grandissimo direttore di doppiaggio dell'epoca, voleva avere un bambino vero, perché per tantissimi anni nel nostro lavoro la voce dei bambini veniva fatta da persone maggiorenni, di solito donne maggiorenni, perché le donne avevano una qualità in più degli uomini per poter rimpicciolire la voce, renderla più gentile, e quindi si avvicinavano meglio all'età dei 3, 4, 5, 6 anni. Perché questo? Perché era difficile avere dei permessi di lavoro, all'epoca era molto più difficile avere dei permessi di lavoro per i minorenni, e quindi è chiaro che si sfruttava questo escamotaggio proprio perché così se una persona era maggiorenne la società non doveva chiedere i permessi a nessuno. Ma in quell'occasione volevano proprio un bambino vero e non riuscivano a trovarlo, anche perché dovevano trovare un bambino che riuscisse comunque a dire le battute, riuscisse a essere spontaneo, riuscisse a andare a sincrono con il visivo, che non è una cosa semplicissima. E allora mi ricordo che Pino mi teneva in braccio di fronte a questo leggio e mi disse, senti, imparati questa battuta, e me l'ha detta un po' di volte, nell'orecchio, me l'ha detta, ripetila, 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 poi dice adesso basta, quando io ti toccherò la spalla, tu di questa battuta. E così abbiamo fatto. Non famigli proprio al signor Robin Hood. Una, due, tre volte, benissimo. E vedevo che erano tutti entusiasti, che ridevano, ma per me era un gioco, io non capivo che cosa stesse accadendo in quel momento. Sì, non essere scortesi. Alla fine, dopo un po' che stavo lì, è arrivata mia mamma, dice, ma che state facendo qui? Perché era preoccupata, dice, ma che cosa state facendo? E mi ha detto, tuo figlio ha appena vinto un provino di doppiaggio, e quindi adesso doppierà questo coniglietto, che si chiama Codicillo, e quindi farà questo personaggio per noi. E mia mamma, ma no, ma siete pazzi, ma no, ma no, ma lui non l'ha mai fatto, ma non è... Stai tranquillo, abbiamo già fatto tutto, ha già fatto il provino, va benissimo. Addio, signor Robin Hood. Tornate per il mio compleanno. E quindi ho fatto questo mio primo doppiaggio. È stata un'esperienza di gioco per me. Io ricordo tutto molto molto bene, perché poi diciamo che sono sempre stato un po' più grande della mia età, quindi già a tre anni e mezzo mi ricordo che ero abbastanza spigliato, veloce, e quindi ho dei ricordi ben precisi. E fu bellissimo. Poi quando uscì questo film, sentire la mia voce. Era per me un'esperienza nuova, è stata una cosa di un'emozione incredibile. Poi all'epoca non c'erano social o telefonini, quindi il film usciva al cinema e rimaneva al cinema per quattro mesi, per cinque mesi, per sei mesi. Non passava in televisione, in televisione sono venuti dopo, dopo tantissimi anni passavano i film che erano al cinema. Devo dire che è stata un'esperienza molto 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 bella, che ricordo con tantissimo affetto, soprattutto con Pino, che poi nel corso della mia carriera mi ha dato tantissimi consigli, e io lo ringrazio davvero per questo, perché è stato un ottimo maestro. Un ottimo maestro nel consigliarmi cosa fare, cosa non fare. Non mi scorderò mai, stavamo doppiando un film insieme, Driven mi sembra, un film sull'automobilismo, una cosa del genere, e lui a un certo punto mi prese da una parte e mi disse «Posso dirti una cosa? Dimmi Pino, non doppiare più i cartoni animati per un lungo periodo». Perché mi disse questo? Io l'ho capito dopo. Perché per doppiare i cartoni animati noi abbiamo un approccio completamente differente. Al momento che l'occhio vede un piccolo personaggio o un animale o comunque un qualche cosa di disegnato, immediatamente il cervello è come se facesse, lavorasse in modo, soprattutto noi attori, cerchiamo di immedesimarci in quel personaggio, cerchiamo di renderci, di abbracciarlo, di entrarci dentro. E quindi immediatamente, come con tutti i cartoni animati che facevamo all'epoca, perché poi all'epoca veramente ce n'erano tantissimi di tutti i tipi, allora la prima cosa che facevi era cambiare un pochettino la voce, metterla in un altro modo, cominciare a parlare in maniera un po' diversa, oppure fare un po' più così, forza, venite amici, per cercare una caratterizzazione. Io ho una grande fortuna perché mio padre, Franco Latini, è stato uno dei più grandi doppiatori caratteristi di cartoni animati che sono esistiti nel doppiaggio. E quindi sia io che le mie sorelle abbiamo avuto un po' il dono anche di avere la possibilità di giocarci con la nostra voce, avere questa capacità. Però quello che lui mi disse mi è servito tantissimo per far formare la voce che ho oggi. Perché se io per un periodo non mi fossi fermato dal doppiare i cartoni animati, non avrei fatto questo passaggio vocale che mi ha permesso dall'adolescenza, insomma dai 17-18 anni, di irrobustire la voce, di far sì che la voce diventasse quella mia. Perché se no arrivi a un punto che non sai più qual è la tua voce, perché fai talmente tante vocine, vocette, caratterizzazioni. Quindi per un lungo periodo ho seguito il suo consiglio, non ho più doppiato cartoni animati. E devo dire che poi a un certo punto quando sono tornato a farli, perché io mi divertivo a fare i cartoni animati, tantissimo, mi sono sempre divertito a stare con i miei amici in sala, a giocare, a scherzare, a fare le vocine, come diciamo, fra di noi. Però questo consiglio di Pino me lo sono portato veramente nel cuore, lo ringrazierò sempre perché soprattutto quando poi alle tue spalle c'è un direttore di doppiaggio che ha una preparazione attoriale importante e ha già vissuto prima di te le esperienze, quindi sa qual è il passaggio da fare, sicuramente ti può consigliare per bene. E quindi è stato uno dei grandi consigli che mi ha dato Pino. E quindi come avete potuto vedere qualche spezzone di Robin Hood, avete sentito sia la voce di Pino, sicuramente, che doppiava a Robin Hood, che il Fabrizio Piccolo a tre anni e mezzo. Come promesso, questo è stato il primo video che viene a celebrare, inizia la celebrazione, celebrazione è una parolona, insomma, inizia questo divertimento di condivisione, come abbiamo detto l'altra volta tra di noi, di questa carriera dei 50 anni, della mia carriera di attore, doppiaggio, radio, cantante, tutto, ci mettiamo dentro tutte le cose più rappresentative, ma non poteva mancare di iniziare con questo primo film, Robin Hood e i compagni della foresta. Grazie a tutti, io spero che tutto quello che abbiamo detto vi sia interessato, possa essere stato bello. Mi piace questa idea di poter prendere delle cose che hanno segnato nel corso degli anni sia la mia carriera, ma anche quella del pubblico, perché ci sono delle cose che hanno avuto un grandissimo successo, un impatto importante anche nella nostra storia, nella società, quindi mi piace fare questo percorso insieme. e con la scusa festeggiamo anche questi 50 anni di carriera e non li lasciamo scorrere così, va bene? Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!